buongiorno ad obiettivo news oggi 12 settembre santissimo nome di maria per celebrare la cooperazione sud sud l'assemblea generale delle nazioni unite ha scelto il 12 settembre data in cui la conferenza delle nazioni unite ha adottato il piano d'azione di buenos aires per la promozione e attuazione della cooperazione tecnica tra i paesi in via di sviluppo nel dicembre 2003 con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza e sostegno globale alla cooperazione sud sud l'assemblea generale ha deciso di esplorare nuove strade di collaborazione stringendo rapporti di cooperazione innovativi e inclusivi e lanciando programmi concreti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo a livello internazionale la cooperazione sud sud può giocare un ruolo chiave nell'attuazione dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile come elemento cruciale della cooperazione internazionale essa offre infatti le opportunità vitali ai paesi in via di sviluppo per raggiungere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile Grazie a tutti Grazie a tutti